E' un'Italia straordinaria quella a tavola, quella che tutto il mondo ci invidia e che sarà il biglietto da visita all'Expo 2015, in preparazione a Milano. E' un'Italia che quasi non ci sorprende più perché la viviamo tutti i giorni. E' l'Italia del buon cibo, dell'agricoltura variegata, che disegna e si identifica nella terra dove si pratica. Il cibo che coniuga storia, tradizione ed innovazione. Ed è l'Italia che detiene il primato della qualità e della sicurezza perché, ne dà notizia col diretti, l'EFSA, l'European Food Safety Authority, in pratica la massima autorità europea in termini di sicurezza alimentare, ha certificato che il nostro cibo ed i prodotti della terra che servono a prepararlo è il più sicuro in Europa e nel mondo. Contiene infatti residui chimici, oltre il limite, 5 volte meno della media europea e 26 volte meno dei residui nei prodotti che vengono dai paesi extracomunitari. E questo cibo, si sa, viene in buona parte dalla Campania e in particolare dalla provincia di Salerno, che conta ben 21 dei 249 prodotti tipici DOP e IGP. Ma l'Italia, la Campania e questa provincia hanno molte altre cose da raccontare sulla biodiversità, le aziende agricole biologiche, i parchi e le aree protette, per non parlare del valore aggiunto per ettaro di terreno, cioè la ricchezza netta dell'agricoltura, che è praticamente una volta e mezzo quella della Germania, il doppio di quella della Francia e Spagna, il triplo di quella inglese. Un primato che per l'Italia si traduce nel record mondiale di export in vino, pasta, kiwi, pesche, mele e pere. Di fronte a questa ricchezza reale impallidisce persino lo spread.